L'Armonia axiridis, detta comunemente coccinello arlecchino, è un coleottero della famiglia coccinellide di origine asiatica. L'esemplare adulto di Armonia axiridis si può riconoscere perché più grande della maggior parte delle coccinelle autoctone, essendo lunga dai 5 e agli 8 mm. Il nome comune, coccinello arlecchino, deriva dalla grande varietà di livree che presenta. In Europa, in base alla colorazione delle elitre, si distinguono. L'Armonia axiridis forma succinea se le elitre hanno colore giallo-arancione più o meno intense, con macchie nere di numero variabile tra 0 e 21. Armonia axiridis forma spectabilis se le elitre hanno colore nero con 4 macchie gialle, arancioni o rosse. E infine Armonia axiridis forma conspicua se le elitre hanno colore nero con 2 macchie gialle, arancioni o rosse. Le femmine, dopo l'accoppiamento, depongono le loro uova in prossimità delle colonie di afidi, quindi su moltissime tipologie di piante. Una femmina adulta riesce a deporre dalle 1600 alle 3500 uova, in funzione del clima e della disponibilità di prede, con una media di circa 25 uova al giorno. Lo sviluppo dell'insetto avviene attraverso 4 stadi larvali in circa 25 giorni. Le larve allo stadio 3 e 4 riescono a nutrirsi di circa 100 afidi al giorno. Le larve di Armonia axiridis al quarto stadio hanno un corpo allungato, appiattito e contornato di robusti tubercoli spine. Il dorso è di colore nero-bluastro, mentre i lovi dorso-laterali dei segmenti addominali presentano macchie di tonalità giallo-arancione, di numero compreso tra 1 e 5 per lato. Le zampe sono di tipo cursorio, adatte alla funzione di movimento rapido. Tali zampe sono lunghi e sottile, con unghie ben sviluppate. L'Armonia axiridis è una specie che si nutre prevalentemente di afidi e cociniglie, ma è predatore di numerosi altri insetti e coleotteri, tra cui le larve di coccinella, di neurotteri e di sirfidi. Tra le larve non sono rari i casi di cannibalismo. Esse si nutrono dei propri simili non solo allo stadio larvale, ma anche allo stadio di pupa. L'elevato numero delle sue prede fa sì che questa coccinella riesca a ridurre le altre specie affidifaghe autoctone e in parte sostituirsi ad esse. Ultimamente, la sua possibile pericolosa predazione e competizione con altri insetti si è di molto ridotta. Le coccinelle indigene sono infatti attive e non sembra che le loro popolazioni si siano ridotte in maniera significativa. La coccinella arlecchino compie solitamente due generazioni all'anno, ma è in grado di arrivare fino a cinque con le condizioni ambientali corrette. Durante il periodo di svernamento che ricopre l'autunno e l'inverno, le coccinelle arlecchino compongono degli aggregati all'interno degli edifici. L'harmonia xiridis, come detto, è originaria dell'Asia, ma è oggi presente in tutto il mondo. L'origine della sua diffusione risale al 1916, quando venne introdotta negli Stati Uniti come agente di controllo biologico per afidi e cocidi. Nel 1964 l'Ucraina decise di adottare la coccinella arlecchino con lo stesso scopo degli Stati Uniti, favorendo dunque la sua introduzione anche in Europa. Una scelta replicata dalla Bielorussa nel 1968 e dalla Francia nel 1982. In Italia le prime segnalazioni di coccinella arlecchino allo stato libero risalgono al 2006. Viene tuttora usata anche in Italia per il controllo biologico delle principali specie di afidi, soprattutto afis gossipi. Presente in cultura protetta e nel verde ornamentale. Non dimenticate di mettere mi piace ed iscrivervi al canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.